Noi siamo quelli che sapevano quello che avrebbero fatto da grandi. Noi siamo quelli che hanno innovato per tornare a crescere. Noi siamo quelli che hanno fatto della sostenibilità un valore. Noi siamo quelli che hanno stretto alleanze per affrontare nuove sfide. E siamo quelli che hanno fatto della tradizione dell'innovazione un mestiere da insegnare. Condividere un percorso significa arrivare ad avere gli stessi valori. E noi siamo quelli che hanno quei valori. Un'industria como. Noi siamo voi. Noi siamo imprenditori 4.0. Associati negli stessi valori.